bellissimo a tutti ragazzi eccoci qua a tornare con un nuovo video oggi siamo con le reazioni su Napoli-Spezia come sapete ora lo sapete perché ve lo dico sono un grandissimo tifoso del Napoli oggi faremo la reazione sulla partita Napoli-Spezia e ce la vedremo tutta insieme ragazzi speriamo che vinca e che dire questo è il nostro terzo video se la qualità audio, la qualità dei video non vi piace o non è dei migliori comunque perché sono nei primi video e vabbè e lo scrivete nei commenti perché non mi offrendo e ragazzi secondo me non è malissimo nemmeno benissimo posso fare di più si può fare di più e mi impegnerò più più mi impegnerò tantissimo ragazzi adesso adesso tra tra una mezz'oretta 40 minuti di iniziare la partita e vedremo insieme la nostra reazione bella bella ragazzi 1-0 per il Napoli Zielischi amici Zielischi al secondo minuto andiamo così andiamo avanti così amici al secondo bella allora raga 1-1 ha segnalato la Spezia grande parata di Raffael grande parata di Raffael e poi tiro al volo gol porca troia 35esimo segnalo guarda che bella parata di Raffael bella ha tirato questo al volo e gol mamma mia che pari gol di merda gol di merda gol di merda gol di merda al 35esimo vabbè dai ci facciamo attenzione raga mentre sto fa la cena non sto fare un signe un palo di insignia mannaggia allora ragazzi è finito il primo tempo non me lo aspettavo quella Spezia giocava così bene possiamo 1-1 ma ci rifaremo nel secondo tempo e andremo a recuperare e vincere questa partita bella ci vediamo poi ragazzi al 57esimo dopo un minuto manolo gabbiatini 3-1 partita in pugno del napoli grande allora ragazzi la partita è finita 3-1 per il napoli andiamo a fare questi quarti di finale faremo anche i quarti di finale con questo tipo di video anche gli ottavi di Champions contro il Madrid e forse perché partite è più importante del campionato con la Juve a Roma allora ragazzi per questo video è tutto lasciate 6 like per continuare questa serie bella alla prossima